La riapertura delle scuole si avvicina e il recente terremoto nel centro Italia ha riaperto l'annosa questione della sicurezza nelle nostre scuole. Numerose giungo la nostra redazione le richieste di genitori che vorrebbero conoscere le condizioni in ambito di antisismica della scuola frequentata dai loro figli. Oggi consideriamo le scuole comprese nel territorio del comune di Saltara. Il comune di Saltara ha quattro scuole materne, due a Saltara, la Leopardi e la Montessori, e due a Calcinelli, la Collodi e la Rodari. Due scuole elementari, una a Saltara e una a Calcinelli, ed una scuola media a Saltara, l'istituto comprensivo Leopardi. Come ci ha riferito il sindaco Claudio Guccioni, a seguito del sisma su tutte è stata effettuata dagli uomini dell'ufficio tecnico del comune un'ispezione visiva per valutare eventuali conseguenze delle scosse. Inoltre è stata eseguita una verifica statica dei solai in ordine alla normativa antisismica vigente. Non sono stati eseguiti lavori di adeguamento sismico, ancorché nella scuola Collodi, essendo un edificio di recente costruzione, inaugurato negli anni 90.